Eleonore Ferruzzi elogiata da Bruganelli e Signorini, peccato che la sua sia solo cattiveria, non coerenza ci tocca vedere un reality in cui il conduttore, alle 23,30 circa commenta un gesto di Eleonore Ferruzzi, definendo la vippona prima di empatia e facendo notare che forse un abbraccio a Nikita lo avrebbe potuto dare. E poi all'una circa, quando Sonia Bruganelli si desta dal suo sonno e commenta le gesta di Eleonore Ferruzzi etichettandola in modo positivo come una persona coerente e non falsa, e dicendo che ha fatto benissimo a non abbracciare Nikita, il nostro eroe cambia idea, e infischiandone di dover essere super partes, commenta, sono d'accordo. Ecco signori e signore, questo è il grande fratello VIP, un reality dove il conduttore ha i suoi protetti, e in questa edizione la Ferruzzi è una di loro. Peccato che nell'atteggiamento di Eleonore, non ci sia nulla di coerente e Grazie a tutti.